Ebbene sì, Milanello, frequentazione settimanale, intervista settimanale, la vedrete naturalmente su tutti i media e su tutti i social del Milan. Il tema forte è rappresentato oggi un po' da quanto scrive il Corriere della Sera, che parla di Zlatan e che parla di Rafa. Ora partiamo da Ibrahimovic, c'è questo problema muscolare, mi avete scritto in molti, ieri un infortunio in casa nostra è sempre uno shock che fa tornare alla mente di tutti i tifosi tutti gli altri infortuni, quindi capisco la reazione. Ho letto anche su alcuni quotidiani, attenzione a rinnovare ai vecchi, che mi sembra... un po' ingeneroso, sia come concetto che come termine. Ma al di là delle mie prurigini, quello di Zlatan Ibrahimovic quest'anno non è stato un rinnovo nel vero senso della parola, cioè un rinnovo a cifre importanti, è stato un anche a livello di ingaggio, andiamo avanti un altro anno, vediamo se riesce a darci ancora una mano, anche a livello economico. Adesso ne parliamo, lasciatemi ricordare OneFootball, OneFootball è a vostra disposizione, l'app gratuita di OneFootball con il suo link è nella descrizione di questo video, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball è totalmente gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta. Quindi Zlatan dal punto di vista economico non è lo Zlatan degli altri anni, è configurato proprio nel quadro di una stagione in cui vediamo cosa succede. Leggo anche, ah Pioli perde nuovamente Ibra, ora fermo restando che Zlatan è stato operato al legamento crociato del ginocchio allo scorso mese di maggio e che è tornato a giocare a febbraio, ci sono anche atleti più giovani che purtroppo vengono operati al legamento crociato del ginocchio in altre squadre, in altre situazioni e ci mettono più o meno lo stesso tempo, mese più mese meno. Da quando Zlatan, poi voi mi direte, è mai appena tornato? Per carità io accetto la critica, ma da quando Zlatan è tornato ad essere convocato, anche se non scese in campo contro il Torino a febbraio, quindi circa un mese e mezzo, è il primo acciacco che accusa. Adesso invece partirà la vostra accusa, ecco, suma, difende. Io faccio cronaca e racconto, non è una difesa, difesa è per chi non ha voglia di ascoltare, chi non ha voglia di ascoltare è tranquillamente invitato a prendere atto del fatto che la bellezza dei social e di YouTube in particolare è il pluralismo, quindi ci sono tante voci da ascoltare, non necessariamente la mia. E ma perché è andato in nazionale? È l'obiezione. Ecco, qui onestamente mi incarto un po' anch'io, nel senso che quando è arrivata, lo confesso apertamente, volendo molto bene a Zlatan e contando ancora molto su Zlatan, a 360 gradi, quando è arrivata la notizia della convocazione con la nazionale svedese, anch'io ho detto, ma è il caso, mi hanno detto, è il caso. C'è stato questo intoppo muscolare che può capitare quando passi dal club alla nazionale, cioè quando cambi metodologia di allenamento, frequenza di allenamento, però non credo sia tanto il caso di Ibra, perché comunque Ibra sia nel club che in nazionale si gestisce e fa il lavoro che deve fare, conoscendo il suo fisico e conoscendo la sua età. E quindi la perplessità che avete avuto voi l'ho avuta onestamente anch'io. Però poi ci ho pensato, mi sono dato una risposta, se lui ha deciso di continuare a fare il calciatore, il calciatore va anche in nazionale. E quindi penso che Zlatan nella sua testa si senta o calciatore o non calciatore, se è calciatore fa tutto quello che fa un calciatore, nazionale compresa. E quindi questa è la risposta che mi sono dato io, poi voi mi darete le vostre altre risposte. Raffaele Aho, il Corriere della Sera scrive a firma Carlo Spasserini, che è una firma che io personalmente seguo sempre con molta attenzione, oltre che con il rispetto che è dovuto a tutte le firme che ci mettono la faccia e si espongono in prima persona, contrariamente a tanti profili social, su un grande quotidiano, quindi con tutte le norme e le leggi che ci sono, questo non c'entra niente con l'articolo di Carlo, ma lo dico in generale. Ecco, Carlo Spasserini scrive che si sta parlando con Raffaele Aho di un rinnovo ponte fino al 2025 per guadagnare un po' di tempo. Il contratto di Raffaele in scadenza giugno 2024, praticamente il Milan e Raffaele si prenderebbero un altro anno di tempo. E' chiaro che comunque anche un rinnovo di un anno, anche un rinnovo ponte è un qualcosa di significativo, un qualcosa di importante, un qualcosa di pesante, che darebbe ulteriore solidità al ragazzo, che impegnerebbe relativamente economicamente il Milan e che comunque darebbe a Raffaele, dal punto di vista economico, qualche certezza in più anche nei confronti delle sue pendenze. Vedremo, vedremo, se ne sta a parlarne non significa farlo. Il Corriere della Sera scrive che se ne sta parlando, non che si farà o che si è fatto o che si farà sicuramente. E' chiaro che sarebbe comunque un fatto, sarebbe comunque un fatto, un fatto di stabilità per la fase finale della stagione del Milan. Noi siamo attesi da un mese di aprile e da un mese di maggio di quelli tosti, di quelli importanti. Ragazzi, tutti ci danno fuori da tutto, quindi noi la dobbiamo caricare questa squadra. Tutti ci dicono che verremo eliminati ai quarti dal Napoli, tutti ci dicono che non arriveremo nemmeno fra le prime quattro. Il pensiero sul Milan è questo. E anche i nostri giocatori devono saperlo, perché non vedono l'ora di definire un caso, una coincidenza, un regalo lo scudetto dell'anno scorso. Quando noi sappiamo bene che se non ci fossero stati gli episodi di Milan-Spezia, di Milan-Udinese e di qualche altra partita che non riguarda il Milan e che quindi per carità di patria non cito, probabilmente non ci sarebbe stato successivamente nessun sorpasso. Probabilmente lo scudetto che abbiamo rimesso in discussione noi, pareggiando due partite consecutive ad aprile dopo la sosta di marzo, Milan-Bologna 0-0 e Torino-Milan 0-0, vincendo soprattutto la parita col Bologna perché il pareggio di Torino era giusto, probabilmente noi avremmo chiuso il discorso scudetto molto prima dell'ultima giornata. Ma ci dicono che è stato un regalo e allora ragazzi bisogna reagire a questa cosa, perché qui non ci sono solo pronostici negativi sul nostro finale di stagione, qui c'è anche il tentativo di riscrivere la storia della scorsa stagione, è a questo che la nostra squadra deve reagire, è per questo che bisogna sempre avere gli occhi spiritati sia in campionato che in Champions, perché non possiamo avere una faccia a Londra e un'altra faccia a San Siro con la Salernitana e un'altra faccia a Udine, ma lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo a noi stessi in previsi. Ci vediamo a tutti i giorni.